eccoci qui con il recap della partita del giorno del secondo round del tata steel chess presentata dalle due torri allora luca qual è la partita che scelto oggi per noi oggi la vittoria del campione del mondo su anis giri una vittoria molto importante che ha permesso a carsen di andare nel gruppo dei giocatori in testa con uno e mezzo su due e di continuare la corsa verso il suo obiettivo dei 2900 punti elo una partita che è iniziata subito bene per per carsen perché ha giocato una una catalana scelta anche contro contro nepo nel match mondiale nella seconda partita non gli era andata benissimo ma in questa partita ha deciso di cambiare cambiare ordine di mosse dopo rocco rocco di per c4 qui la principale donna c2 invece lui ha scelto cavallo a3 c2 l'aveva giocata contro nepo mentre cavallo a3 è la mossa che ha scelto di giocare contro anish anish che non si aspettava assolutamente questo ordine di mosse infatti ha pensato sin da subito a cosa bisogna fare ha mangiato questo cavallo in a3 che è la principale ma dopo b per a3 ha fatto alfiere d7 ancora velocemente e dopo a4 ha iniziato un pochettino a pensare ha fatto alfiere c6 che è molto logica per portare alfiere sulla grande diagonale alfiere a3 per attaccare la torre visto che il pedone in a4 ha garantito al bianco di portare alfiere in questa in questa casa e gli ha permesso di occupare spazio sul lato di donna torre 8 l'unica casa per la torre donna c2 e si è raggiunto a questa posizione dove il bianco va a riprendere il pedone in c4 non subito con una mossa torre a c1 fatta abbastanza velocemente non si capisce bene il motivo per cui carson abbia voluto fare torre a c1 ma forse dopo si riuscirà a capire infatti dopo una mossa come a6 del nero donna per c4 adesso l'idea del bianco è che con questa torre in c1 dopo cavallo b6 attacco doppio alla donna e al pedone in a4 il bianco prosegue con una mossa un pochettino strana donna c3 ma che impedisce al nero di mangiare in a4 con l'alfiere perché il pedone c7 poi rimarrebbe attaccato e quindi dopo la presa in a4 di cavallo si raggiunge questa posizione dopo donna b3 in cui il bianco ha un pedone in meno ma il nero ha difficoltà soprattutto perché c'è questa minaccia di torre per c6 e donna per a4 e a meno spazio i pezzi sono più attivi quelli del bianco l'alfiere in a3 lavora molto bene l'alfiere in g2 anche il cavallo è pronto a saltare in e5 la torre in c1 è su una colonna aperta mentre il nero si ha questo alfiere buono in c6 questo cavallo che va bene in f6 ma la torre in e8 non si sa esattamente cosa voglia fare la torre in a8 non ha un futuro certo e questo cavallo in a4 è completamente fuori gioco anzi un target della posizione del bianco forse il nero avrebbe dovuto giocare una mossa molto solida come cavallo b6 indietro che comunque permette lo stesso un sacrificio tipico torre per c6 con dopo b per c6 qualche cavallo e5 prima con e3 magari che difende il pedone o anche subito in questo modo sacrifici che sono abbastanza spiacevoli da ricevere perché dopo alfiere per c6 c'è un attacco doppio le due torri cavallo per c6 recupero un pedone la donna viene attaccata non ha molte case il bianco ha un sacco di spazio ha i pezzi molto buoni ha la coppia degli alfieri che in una posizione aperta è molto forte e il nero fatica a lavorare con queste torri vediamo la torre in e8 su una colonna chiusa la torre in a8 che non può andare in b8 se no si prende subito un doppio e non si vede un modo concreto per il nero di proseguire il gioco e forse proprio per questo qui ghiri ha scelto di portare la donna in d5 anziché giocare cavallo b6 si ha portato la donna in d5 perché chiaramente se si cambiano le donne rimane un pedone in più e ha tutto l'interesse di cambiare le donne abbiamo visto anche prima il sacrificio in c6 poi quando il cavallo ti arriva in e5 la donna in d8 non ha molte case quindi ha detto sai che c'è propongo il cambio di donne e anche se carson se ne va comunque la mia donna in d5 è più attiva rispetto alla donna in d8 anche perché impedisce la banale cavallo e5 per un matto in g2 quello che non ha previsto ghiri però è che subito dopo la sequenza di carson ha iniziato a scuotere la testa per diversi minuti è che carson comunque ha giocato una mossa geniale torre per c6 comunque con un calcolo inizialmente semplice perché su donna per b3 a per b3 b per c6 si riprende il cavallo in questo momento si hanno due alfieri per una torre due alfieri molto attivi con posizione vinta su torre per c6 b per c6 anche qui molto semplice donna per a4 riprende il pezzo e qui non si vede nulla di strano ma la sequenza molto difficile da prevedere era che su donna per c6 che difende il cavallo in a4 il bianco prosegue con cavallo e5 attaccando la donna e sebbene il nero può continuare a difendere la donna e il cavallo con la mossa donna b5 quello che non ha previsto ghiri è che la semplice ma letale donna c2 crea dei problemi immediati al nero la donna ha poche case il cavallo in a4 è sempre un target e proviamo a mettere una mossa is del nero come h6 dopo torre b1 del bianco l'unica casa disponibile per la donna è a5 ma dopo alfieri b4 se vai in b6 con la donna perdi il cavallo in a4 molto semplicemente se vai invece con la donna in b5 dopo la semplice alfiere e1 la donna non ha una casa disponibile e quindi la partita sarebbe subito finita un po di sfortuna c'è anche da dire perché non avere una casa in quella situazione è strano però carson si è accorto di questo tema tema davvero pazzesco e qui già non con tantissimo tempo dopo donna c2 una quarantina di minuti per fare ancora 23 mosse prima del controllo aveva solo una difesa pazzesca che era cavallo b6 indietro strannissima perché permette alfiere per b7 appena si muove appena sposti la torre da 8 alfiere c6 che ti attacca sia la donna sia la torre ne8 quindi dovresti ridare un pedone e la qualità decisione pazzesca ma qui il nero ha la geniale cavallo c4 che salva la giornata perché attacco l'alfiere in b7 e dopo alfiere per a8 mangio l'alfiere in a3 attaccando la donna del bianco e dopo donna per c7 che minaccia donna per f7 il nero riesce a difendere tutto con torre f8 sì ma qui era in visibile difficoltà e gioca invece cavallo d5 errore pazzesco di ghiri pazzesco pensato non tantissimo non ha trovato cavallo b6 cavallo c4 glielo ha mostrato a carsen nel post partita l'idea di cavallo d5 che dopo torre b1 giocate in partita e donna a5 impedisce alfiere b4 perché il cavallo controlla la casa però la semplice alfiere per d5 giocata da carsen è utilissima perché poi la casa b4 torna disponibile e addirittura su e per d5 nemmeno alfiere b4 ma torre per b7 prima alfiere b4 che già era vincente luca invece carsen no non si accontenta vuole molto di più e gioca torre per b7 sì carsen spietato torre per b7 che adesso minaccia alfiere b4 mangiandogli la donna perché la donna non ha case infatti anche per questo e per d5 è stato un secondo errore da parte di ghiri che qui cosa avrebbe dovuto giocare luca avrebbe dovuto giocare donna per d5 lasciando il cavallo in a4 potendo mangiare magari anche il pedone in a2 e sì la posizione non è fantastica perché carsen può mangiare in b7 alfiere cavallo per una torre dovrebbe essere sufficiente per vincere la partita però comunque gli crea ancora dei problemi pratici c'è i due in presa c'è torre b8 che cambia delle torri il bianco dovrebbe avere comunque molta attività e a una certa un donna d7 per attaccare il pedone in f7 dovrebbe essere assolutamente letale in partita in realtà dopo alfiere per d5 e per d5 lui pensava di giocare dopo alfiere b4 magari un donna b6 per mangiare il pedone d4 ma ancora una volta carsen al posto di giocare l'alfiere b4 spontanea gioca torre per b7 così che sulla mossa spontanea è cavallo b6 per salvare il cavallo impedire alfiere b4 donna per c7 arriva e la settima traversa è letale i pedoni cascano come birilli il re prenderà matto torre f8 non è nemmeno possibile come difesa perché l'alfiere in a3 mangerebbe la torre poi cadrebbe il cavallo in b6 cadrebbero un po tutti i pezzi nella posizione del nero tant'è che addirittura ghiri piuttosto che far cavallo b6 ha deciso per una mossa un po drastica c5 impedisce alfiere b4 e libera la casa f8 per la torre ma carsen prosegue con il suo attacco donna f5 come si può vedere il bianco ha una superiorità sul lato di re perché il nero ha la donna in a5 e il cavallo in a4 il che vuol dire che il bianco deve cercare di giocare dall'altro lato perché il nero non può portare abbastanza pezzi alla difesa dell'arrocco ha giocato torre f8 ma dopo cavallo per f7 la minaccia e donna e6 con poi il matto affogato cavallo h6 donna g8 possiamo mostrarlo magari dopo un eventuale donna d2 donna per d5 magari cavallo c3 ad esempio e cavallo h6 segue il sacrificio di donna forzata la cattura di torre e abbiamo un bel matto affogato sì una situazione non decisamente divertente per ghiri che comunque si è difeso bene in questo momento della partita qui va dato credito a ghiri che ha trovato donna d8 che è l'unica mossa che crea problemi alla posizione del bianco perché non può mangiare in d8 per la donna in f5 e su un eventuale donna e6 che è l'idea del bianco quindi la minaccia del matto affogato esatto il nero avrebbe proseguito con donna e8 e in questo caso il matto affogato non c'è più perché dopo cavallo h6 e h8 donna g8 il nero può mangiare questa donna perché la donna in e8 tiene la casa f7 ghiri ha trovato questa risorsa difensiva che non è bastato perché dopo donna d8 di per c5 carson conquista un altro pedone si crea un pedone passato e addirittura dopo donna f6 il nero ha voluto cambiare le donne a tutti i costi per salvarsi dal matto il bianco le ha cambiate gli ha dato uno scacco in h6 re h8 unica il pedone c è iniziato a volare prima in c6 torre fc8 poi in c7 e con l'idea semplice ma letale cavallo f7 scacco cavallo d6 si recupera la qualità si rimane con una marea di pedoni in più addirittura carson con eleganza dopo cavallo c3 per almeno cercare un controgioco da parte del nero che cerca o di mangiare e2 o addirittura di tornare in b5 per attaccare il pedone in c7 carson trova la semplice ma letale alfiere b2 e su un eventuale cavallo b5 alfiere per f6 sarebbe arrivata con matto decisamente carino il nero non può nemmeno catturare nei due perché dopo cavallo per e2 ref1 il cavallo è in trappola e minaccio anche matto in f6 cadono abbastanza cadono tutti i pezzi per cui è forzato qui a continuare con d4 esatto deve proteggere questo cavallo carson gioca ancora una volta una mossa molto semplice cavallo f7 regi 7 cavallo d6 giri prosegue con una regi 6 non sapeva esattamente cosa fare se fa cavallo d5 perde la qualità casca d4 può mangiare il pedonine 2 volendo qui vediamo finisce in posizione persa dopo ref1 cavallo c3 alfiere per c3 di per c3 re e2 e guardiamo le torri del nero come sono inutili la torre in c8 non si può muovere perché c8 arriva con scacco con scacco di scoperta sulla settima traversa la torre n8 non si può muovere deve prima di nuovo fare una mossa di re come regi 6 per schiodarsi magari muovere la torre da c8 ma dopo regi 6 il bianco può semplicemente ricatturare la torre in c8 portare il re catturando un altro pedone l'altro pedone in c3 andando poi magari anche in b4 a5 catturando anche a 6 e con tutti questi pedoni in più il finale è chiaramente vinto per carson motivo per cui giri non ha mangiato questo pedone in e2 ha preferito fare subito re g6 sì così da minacciare di liberare la torre e non subire questo scacco di scoperta sì ma carson gioca re f1 e anche se il nero prova a liberare la torre non ha nessuna casa buona per cui addirittura preferire di lasciarla lì quella torre il cavallo in b6 vale vale praticamente di più di questa torre in c8 tanto anche se giochi torre f8 poi non hai non hai una mossa buona successivamente quindi giri ha provato a far cavallo b5 per contraattaccare il pedone il pedone in c7 carson ha ripreso la qualità torre per c8 a4 e dopo cavallo per c7 il pedone in d4 casca siamo 5 contro 3 torre alfiere lavorano addirittura meglio di torre cavallo giri ha provato cavallo e6 alfiere 3 alfiere che domina il cavallo e la distanza giusta perché controlla tutte le case del cavallo su un'eventuale torre c4 per provare a mangiarsi il pedone a segue torre b6 un attacco doppio e la posizione nero crolla in maniera molto semplice sì perché qui luca anche se provo a giocare una mossa tipo cavallo c7 per difendere il pedone in a6 io posso giocare a5 difendere il mio pedone su un attacco come torre a4 posso giocare torre c6 attacco il tuo cavallo che deve togliersi dalla difesa del pedone a6 e rimango con addirittura tre pedoni in più in questo caso sul fiere 3 al posto che giocare una mossa come torre c6 per difendere a6 per con due pedoni in meno il nero ha deciso di abbandonare che la posizione è completamente persa sì luca che cosa ci insegna questa partita ci insegna che tutte le volte che subiamo un colpo psicologico perché l'avversario ci fa una mossa che non ci aspettiamo come carson ha sacrificato la qualità in c6 ha giocato un donna c2 una sequenza che sicuramente non hai visto abbiamo anche visto dalle dalle webcam ufficiali del torneo dopo donna c2 ha iniziato a scuotere la testa giri ha iniziato a trovare un sacco di problemi che c'erano effettivamente perché la donna non aveva tante case ha iniziato a calcolare un sacco di mosse che perdevano molto semplicemente c'erano tante mosse possibili qua ma perdevano all'istante calcoli da due o tre mosse massimo che carson avrebbe trovato in maniera molto semplice anche in questo caso non dobbiamo lasciarci prendere dal panico ma dobbiamo resettare e dire ok non l'ho vista cerchiamo la soluzione più forte perché qui una difesa con cavallo b6 cavallo c4 c'era il numero 8 al mondo ha tutte le carte per trovare una soluzione al problema quindi non ci dobbiamo lasciare abbattere e dobbiamo trovare sempre la la soluzione anche se il problema era era enorme ed era difficile da risolvere dobbiamo comunque provarci perfetto luca grazie a tutti per la visione se il video vi è piaciuto mettete un like lasciate un commento ed iscrivetevi al canale ciao